La famiglia Zannasi Lagostina ha donato l'eredità artistica, la sua collezione di quadri, alla città di Omenia 3 o 4 anni fa. Da quel momento è iniziato questo iter per la ristrutturazione di questa villa che sarà la sede della Pinacoteca. Come al solito ci sono stati ritardi. Adesso la casa è pronta e quindi in questa occasione di questo evento internazionale di un torneo di scacchi molto prestigioso con 110 iscritti alla competizione che provengono da 12 paesi del mondo, ci è sembrato interessante e un motivo anche di promozione per la nostra città e anche una sede molto prestigiosa per questo torneo utilizzare la villa. Manca ancora qualche piccolo passaggio per poter aprire l'esposizione dei quadri ma ritengo che ormai siamo veramente in dirittura d'arrivo. Tra l'altro diciamo appunto che è un luogo prestigioso che potrebbe diventare una specie di punto di riferimento anche culturale insieme al resto del forum del Parco Maulini e un polo d'arte. Ma certo, è notizia di settimana scorsa che la città di Omenia insieme all'oratorio, alla parrocchia, ha passato il primo step del bando emblematico. Quindi abbiamo la possibilità di vedere assegnati 1 milione e 200 mila euro sulla città di Omenia che uniti al cofinanziamento tra comune e parrocchia arriveremo quasi a 1 milione e 9. Con questa somma riqualificheremo tutta l'area del forum e poi anche verranno fatte le opere nell'area dell'oratorio ma certamente come dicevi tu qui diventa un po' la porta d'ingresso della città di Omenia con la sua caratteristica appunto di sito culturale. Grazie